E' stato un omaggio all'eccellenza sanitaria romagnola, quello che il presidente Mattarella ha voluto riconoscere visitando l'IRST di Meldola. Il capo dello Stato è arrivato nella struttura subito dopo essere stato al teatro Fabri di Forlì. Dopo una visita privata nei reparti è stato accolto nella sala convegni del nosocomio pronunciando un breve discorso. Soltanto pochi istanti per esprimere apprezzamento e riconoscenza. Per rivolgere un saluto, poc'anzi ho visitato il reparto di tomografia e i laboratori. Questo mi ha fatto riflettere perché la tomografia è un intervento terapeutico mirato alle specifiche condizioni del paziente, sulla mappa della sua patologia. I laboratori di ricerca sono sempre più chiamati a individuare percorsi personalizzati di intervento terapeutico. Questo indica come questo istituto sia collocato sulla frontiera della lotta contro i tumori, della cura dei tumori. E' quindi per questo l'apprezzamento e la riconoscenza. Ringrazio il professor Balduzzi, il professor Amadori, il direttore Martelli per l'accoglienza così cordiale. Ma sono io che desidero ringraziare per quel che è fatto. Vedere una struttura inserita a questo network appunto di carattere nazionale prezioso dall'idea di come il nostro paese abbia risorse straordinariamente intense, capaci di avanzamento nel confronto della comunità scientifica e terapeutica internazionale. Vi ringrazio per quel che fate. Molti auguri e davvero un grande apprezzamento. Pochi istanti dopo, Mattarella ha presenziato la posa della prima pietra della nuova farmacia oncologica che verrà costruita a poche centinaia di metri dall'Irst. Terminata la visita, il presidente è ripartito verso l'aeroporto di Dolfi dove in aereo è rientrato a Roma con l'arduo compito di trovare una quadra per la formazione del nuovo governo.